ciao ragazzi buona giornata oggi iniziamo un pochino di movimento scusate probabilmente arriverà un po tardi perché stamattina sono a fare la spesa scuola di vita poi vi racconto sono solo delle conferme per me ma anche per voi che spesso mi seguite dai e quindi oggi movimento ginocchia e mani chiudo e quando chiudo chiudo bene stringo e lavoro bene e quando apro adesso mani ma dopo chiudo spazzolo il pantalone e ti stengo e chiudo le spalle così apro bene apro lo sterlo chiudo e chiudo immaginate di tenere un'amburia un melone una mela e una nocciolina o benissimo e poi mani io riduco i tempi e se no ma voi dovreste piegarci dai 21 minuti alla mezz'ora poi se volete unire più video e dita e mano destra e mano sinistra sempre noi dobbiamo collaborare con tutto il nostro corpo oggi cominciamo a parlare di sincronicità e poi schiena dritta e dita mi raccomando è non la prima parte delle dita ma tutto bene e poi lo faremo anche con quella poi potremo anche appoggiarci al muro se volete i piedi punta tallone punta trovate poi anche il vostro movimento senza essere appoggiati comunque anche essere appoggiati non c'è problema e dopo di che guardate bene 1 2 1 2 1 2 dai ragazzi è come quando camminiamo è punta tallone tallone punta dopo di che incominciamo a lavorare un pochino qui questi lavori ricordatevelo se volete e avete una bottiglietta d'acqua fatelo con in mano una bottiglietta d'acqua ok e così lavoriamo un pochino di più con i muscoli finito questo lavoro scendo un po di più con le ginocchia introversione del bacino ok e piano è piano le ginocchia morbide ok dopodiché gluteo quindi vi appoggerete sempre al muro l'esercizio è semplice ma deve essere fatto bene per lavorare bene il gluteo e quindi si scende leggermente con la schiena per non caricarla e si fa questo guardate che il movimento è solo questo e lo vedete questo deve lavorare solo e arrivare non distendere perché se distendete no 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 arrivare vedete sentite mettete la mano qua sentite come lavora tutta la parte piccolo medio grande gluteo benissimo e quindi abbiamo lavorato pesi ve lo ricordate uno due chi non vuole usare i pesi nessun problema però stringa uno due uno due uno due ok bene e adesso incominciamo invece a fare destro sinistro destro sinistro destro sinistro destro sinistro destro sinistro destro sinistro ok e poi piede martello uno due tre e chiaramente anche con il destro però adesso lo rifaremo facendo cosa uno due tre uno due tre bene e quindi uniremo poi uno due uno due uno 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 a tennis, giocare a ping pong, dai, guardate, ginocchia, bacino, spalle e mani che apre e chiude, apre e chiude, apre e chiude, fatelo più tempo che volete, e adesso le due cose importanti di stamattina, svolto a fare la spesa, allora guardate, voi lo sapete, molti di voi lo sanno, ho visto gente camminare così, dai ragazzi, su, su, non possiamo, mi sembrava che stessero dicendo, dov'è il virus, e ormai toccherà solo a me, guarda in quanti, hanno preso il coronavirus, anch'io, anch'io le palle, vuole fottarsi che lo becchia, su, tallone punta, su, guardate la nuca, guardate le spalle, e mi alzo, stringo il gluteo, dentro bene il diaframma, e su a guardare, e un'altra cosa, buongiorno, buongiorno, a distanza, ma salutiamo, andiamo in montagna, ci salutiamo tutti, salutiamoci, impariamo a che anche in città ci si può salutare, bene, e quindi, questo, testa alta, ok, bene, l'altra cosa che mi è successo, e non è parlata con la cassiera, e quello dietro, mi ha detto, allora, ragazzi, allora, dobbiamo rispettare in questi momenti anche la lentezza, cambiamo alcune abitudini, anche perché non era certo la persona che doveva andare a lavorare, era abbastanza anziana, e quindi, ragazzi, lentezza, lasciar chiudere, bene, ricordatevi soprattutto di fare questo movimento, domani capirete il perché, chiudo, chiudo e apro, chiudo e apro, chiudo e apro, chiudo e apro, ragazzi, bere un goccio d'acqua, e oggi se riesco, perché qui a me le giornate volano, vi faccio un video finalizzato alla lampadina True Light, una piccola video chiacchierata, riprenderò le mie slide che generalmente utilizzo nelle conferenze, e ve le presento, una roba anche di 3-4 minuti, ciao ragazzi, e ricordatevi sempre, sorriso, oh già, scusatemi, barba, e stamattina non l'ho fatta, ma domani mattina mi trovate bello sbarbato, se no poi mia moglie non mi dà i baci, ciao ragazzi, buona giornata, e bere acqua, bere acqua, ciao!